L'azienda ha fatto una serie di riflessioni che durano mai da tempo e che oggi hanno portato a una conclusione che è purtroppo per San Giovanni una conclusione brutta, che è quella della chiusura dello stabilimento. Ora, da questo punto di vista però, siccome io prima di fare il sindaco, come molti di voi sanno, l'ho seguito lo stabilimento e ho conosciuto la Beltrame come un'azienda schizofrenica, io glielo avevo anche detto stamattina, che prende decisioni in maniera molto avventata, senza forse riflettere nemmeno rispetto alle conseguenze che le decisioni stesse comportano, noi gli siamo detto che ci saremmo attivati comunque in tutte le sedi, c'era la presenza della provincia, della regione toscana per far cambiare idea alla proprietà, chiederemo un incontro alla proprietà a breve, abbiamo comunque concordato e ci rivedremo con i rappresentanti aziendali nella settimana dai 7 all'11 di novembre, però è chiaro che in questo momento noi non siamo, lo dico ridicendo come ho detto prima, anche in maniera po' istituzionale non c'è nessuna disponibilità a contrattare ammortizzatori sociali che vadano nella direzione della chiusura dell'ottabilità.